Si dedica di più alla famiglia, questo è molto bello. E qui alla corrida invece... No, sono venuto solo per divertirmi, per far divertire il pubblico. Ah, vabbè, cosa fa, recita... No, canta una canzone di Moranti. Canta una canzone di Moranti? Se riesco a cantare. Tutto dipende da lei, guardi. Grazie. Che si intitola... In ginocchio da te. Ecco, tanto per sapere prima qual è la canzone, così uno si regola. Ma lei ha cantato altre volte? No. No. Non è la mia prossima. No, è la prima volta che canta. La prima volta che canta e mi sembra... Beh, vabbè, l'importante è che non sia l'ultima. L'importante è partecipare. È partecipare, vabbè, bontà sua. Allora, prego maestro. Prego. Tanto. Io voglio per me le tue carezze Sì, io d'amo più della mia vita Ritornerò in ginocchio da te Altra non è, non è niente per me Ora lo so La tonalità, non siamo d'accordo... Rifacciamo. Era un po' atonale. Cioè, come la deve cantare? In tono. In tono. In là. In là. La deve cantare in là proprio. In là. Vado. Tre. Sì, quattro. Io voglio per me le tue carezze Sì, io d'amo più della mia vita Ritornerò in ginocchio da te L'altra non è, non è niente per me Ora lo so Ho sbagliato con te Ritornerò in ginocchio da te E bacerò le tue mani a voi E gli occhi tuoi che hanno pianto per me Io cercherò il perdono da te E bacerò le tue mani a voi Ritornerò in ginocchio da te Alta non è, non è niente per me Grazie 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 A me Sì Io ho la vaga impressione che la sua esibizione non sia andata molto bene Non molto Non molto bene Però lei ha detto prima Ci sono venuto per divertire Lei si è divertito Ha fatto divertire anche il pubblico Loro si sono divertiti E ti ha fatto molto bene Grazie Bravo, bravo Complimenti Grazie Complimenti Complimenti Veramente Oh 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 Oh